C'è Dalla Torre, ciao Adriano, come stai? Bene, io sto bene, vedo che stai bene, ma sto partendo con gli occhiali e col capello, sei proprio uguale Adriano, forse anche senza perché i capelli non ce l'ho più, però sei tu Adriano, io sono con Adriano Silentano questa sera ragazzi, ragazzi saluto tutti quelli che non lo guardano, perché quelli che non lo guardano non capiscono cazzo, perché c'è anche Don Vito qua, fai lì, Don Vito! Don Vito, ma loro dobbiamo stare tutti tranquilli qua, allora chi non guarda bla bla bla, non è che come, ci ammetto io dove dico io, avete sentito Don Vito, questo vi fa il culo, esatto, facciamo le mani a tutti, Vincenzo, grande Vincenzo della Corrida, anche lui, grande Vincenzo, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui. Vincenzo, che mi ha ragione, hai tagliato alla Corrida? Alla Corrida, è Tenez Scott Talent, Colorado Got Talent, grande Vincenzo, e poi mi hanno trombato alla prossima edizione di Tenez Scott Talent, perché ho fatto, Tu si chiamare se mi hanno trombato, e poi abbiamo fatto la televisione allora come ti dice a Vincenzo che la prossima televisione che faccio lo porto da me io vi porto tutti bla bla tutti bla bla ciao ragazzi ciao